Ok, vediamo un attimo che penso che... Ah, penso che tengo la Black Panther, selezionate... Scusate, scusate... Eh, raga, allora se ne ho un attimo che mi trovo... Devo selezionare i procuri, i procuri, i procuri, i procuri... Scusate... 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 Eri, dove stai? Orabi... 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 Eri, ti piace la nazione? Oh, il francese è l'Ucraino... Mamma mia... Che ne soffino... Ah no, ma vedete... 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 Eri... 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 Divento piccola... Quindi mi prendi un gran sacco... Ma no... Ma no... Ma no... Ma no... Ma no... Ma oggi deve uscire l'aggiornamento... Chi ha fatto la... Io... Eri... 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 Sì, l'ho fatto. Ah, no. Allora, faciletto. Bella, io ti posso dare un occianetto o un coltile? Se volete. Occianetto, che stai da un coltile? Ora, faccelo! Rata, io voglio prenderlo. Ah, no. Ti accetto. Ma Rata? Non so che c'è da mio fratello. Ora arriva anche il sangino. 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 Ma no. Ma no. Ti accetto, signore no. Signore no. Signore no. Signore no. Ragazzi, ovviamente non accetto. Però... Ma come fanno? Non so che c'è da mio fratello. Ma è stato un bel sangino. Non so che c'è da questo. Non so che c'è da questo. Rai lo giù. Ma c'è da qua? Ma se io non lo accendo, che c'è quello che vuoi fare? Vabbè, se le accetto, accetto. Eh, ma tu non vorresti questo, se lo devo cambiare! Oh, è vero! No, non posso mettere sull'angolo a me, non ho capito. No, non ho capito. Mi devo sbagliare. Vabbè, se non faccio merito! Ma lei, aspetta, mi diamo il trinito. Ah, ok. No, non capisco niente di una pizza di trinito. Allora, mi diamo il trinito. Ok. Eh, certo. Ti ho detto, iniziami. Ti devo qualche altro figlio. Tu l'hai formato. No, ma tu non mi devi dare! Eh, que, que, que... Perfetto. Come ti chiamo? La pizza ce l'hai! Eh? La pizza? No! Sì, spero di dire una cosa! No! Ma tu non mi non mi dà! I cani! I cani! I cani! Ma questo vale di più della cosa... Vabbè, se non ho trascato. No! È... Comune... È pure... Allora, che accetto? Non ce l'hai! Ma tu non ce l'hai! Ma tu non ce l'hai! Ho i cani di succo, non ce l'hai! E perché? Non ce l'hai! E quando ce l'hai! E quando escono i cosi... Io voglio... Capirlo! Grazie! No! No! Non ci va la linea! Entra... No! Non ci va la pallacce! So youtube, ehm... Vedi che censure... Zobbo? Deviiesenatovarla già la tecnolata. Ma non sai come si censura. Ma chi ce l'hè? Mah chi ce l'hè? Mah chi ce lhèi?! Ma mi sa. Chi ce lhèo? Nooo, no, no lei... Eh? È... Eh??? Non dire qualcosa di okè Nooo, è che va inodusina. ecco perchè oh non mi ha chiesto oh madonna ma c'è perché non mi ha chiesto cosa vuoi chiesto mouse fly rai si a me si può che va bene esagerata se ve lo vengo esagerata guarda guarda e poi sbaglio no e poi vale una volta l'ho tenuto ancora non l'abbiamo 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 non non è un è un l'abbiamo 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 la tigre va a gola anche se può scalacare che dico io la gente mi sa che non posso scalacare non mi dico cosa però mi piace ho accettato ma l'abbiamo sì l'abbiamo 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 esiste accettato ma lì si piace così qua lì si è preso incavolato e lì si piace così ora tengo un altro uomo e lì si piace così che bello bello che mi ho sveglato il mio ragazzo 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 io perché ma lì si è capace povero Fabiano per me la compa tu mi è capace tu mi è capace tu mi è capace ti piace? sì io ti non trigo uuuuuh ti nuove avrei non 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 ho preso in braccio ah no ho preso in braccio non ho preso in braccio non ho preso in braccio ma ho preso in braccio adesso ti ho preso in braccio? no sì adesso e mi è ritorno non ho preso in braccio o se è ritorno e per me è ritorno me è ritorno ma che bello ma che bello che bello se ritorno si mi è ritorno ma che bello che bello Sì, papi. Mi chiede l'abbagato, mi chiede l'abbagato. Papi, mi ha scottato qui. Sì, papi. Uuuuh, mi chiede l'ultima, mi chiede l'ultima! Sì, papi. Ma lui, non è l'ultima, non è l'ultima, non è l'ultima. Sì, papi. Papi, ma non stai comando tu la parte, non è l'ultima, non è l'ultima! Sempre l'ultima. Sì, papi. Ma tu, che carina quella bambina! A me non ho un bambino. Papi, vuoi adottare quella bambina? Papi, vuoi adottare quella bambina? A me è quella bambina qua. Ma lei mi sono grande. Vuoi adottare un'altra bambina? Questa bambina questa qua? Sì, papi. C'è uno grande. Ma quella... Questa bambina si poteva... No, non è vero. Questa bambina? Questa bambina! Questa! 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 E' un frano, parlo a frano. Mamma mia, guarda un petto al bottino che ho rinco io. Ehm... Ma ora guardi i petto che erano. Guardi, spero che è rincaggio. C'è un petto mio, dico, gli normali che ho rincaggio. Uno, due, tre, guardo. Occhio, aspetta, abri, devo notare un petto. Sento, uno, due, sette, otto. Ehi, lo sai perché dico mi dono un braccio? Perché io volevo qualche seguito, ma la senta è l'un braccio in legale, capito? Guardate, notte. Ehi, i premi, lascio! Uuuuh! Vedi, intenevo questo qua di tutto. E' bellissimo! E' bello! E' un matto! Ehi, i premi, ti metti tu. E' un bravo spago che vivano. Eccomi! Ehi! Ehi, guardami la finta di me. Ehi, costumata. Costumata. Raga! E' da mezzo? Ah no, sto registrando da precisamente mezz'ora. Quattordici minuti. Ora ti faccio il test. Ma sembra mezz'ora data per me. Non mi preoccupate, ma per me se vuoi. Ehi, tu, quella ragazza brutta. Dai, poverina. Ma non mi piace il costino. Però mi piace il costino. Sì, ma non la senti il costino. Non mi piace il costino. C'è, intendo. Cosa è un giro? No, quella là davvero è... Che io a te non c'è mai. Che io a te non c'è mai. Sì, io a te non c'è mai. Questa ragazza brutta. Questa ragazza brutta. Come mi fa bene viola. Come mi fa bene viola. Guarda, facciata... Cane, è inquieto. Ha preso per il koala. Mamma, mamma. E' un gatto. Perché è molto un gatto. Sì. Ma guarda, che fai? Al clave del giugno, che io non ho. Ma ti faccio un po' di più. Mi fa bene. Mi fa bene. Mi fa bene, mi fa bene, mi fa bene. Pettate, pettate, pettate. Ma di quando colchetto è? Ma guarda, c'è loro. Eolio, questo è mio, mi fa il calvinio. Mi fa il calvinio. Mi fa il calvinio. Mi fa il calvinio. Guarda, questo è qua. Guarda, questa è qua con il calvinio. Ah, quello è qua. Dov'anni, questo calvinio. No. Spero di tenere più violenza. Certi tutti i calvini. Ma è il calvinio. Ma io mi facevo il calvinio. Lo vuoi il calvinio. Capisce? Proprio tutti i gatti, io non li vedo proprio, di tutte gambe con un lato. A me si vedono solo le gambe e solo le mani e non la testa, ecco qui no. Questa è la mia mattina. No, 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 no. Oh, guarda Dio, come è stato freddo. Dai, ma ragazzi, a me è un'alogine stanno andando col colpere per cercare... Ma perché a voi fatti da una barca? Non mi ha cercato, faccia, faccia. Lena, mi piace qui? Dai, sì, dai! Vedi, 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 ossia, ascolta, vedi, ossia, ascolta, vedi, ossia, questo, e qui. Mi manca solo... Olè, 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 olè. Cosa hai detto, Auri? Perché dovrei? Ovunque. Vedi, duco, cosa posso ragazzi? Ok? Vedi quante mie no? Però lo devo fare io. Siamo cercalo! No, mi sto chiedendo prima il pezzo e devo andare, però se tu puoi alzare tu puoi volare un bosco. Ok. Ti do un bosco. No. Che ti vuole? Non si è giunta. Oh, tu vuoi ce l'hai? Io non me lo dai a me di questo. Sì. Sì. Tu ce l'hai? Lì devo lavorare per fare il mio, non mi vuoi che mi servono altri due. No, devo fare tutto di volare, tutto di me. Però il mio corpo è questo, eh. Il mio corpo non mi devo ancora costruire, perlue. Purtroppo. Vedi cosa ho? Ora cazzo il ciclo! Ma ieri kiii! Ma la mia cazzina, la mia cazzina! Lassate questo, la mia cazzina sta bella, la mia cazzina. Guarda, lì è più piccolo lì. Ehi, ehi, chi? Dabbi, me lo dai a me, tu a chi sei? No, ma non c'è questo, mamma. Dai! Ti regalo il rosco. No! Ma tu manco l'ai il rosco? No, arriva fino a te. Allora... Ma cosa c'è questo? Ehi, 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 ehi! Non c'è questo? Non c'è questo? Ehi, non c'è questo. Ma... Poi non l'ho manco mai visto la vostra mia. Ma perchè nessuno lo sa mio. Sì... Ma tu non l'hai visto? Ma il pulcino mi doveva vedere che questo era un bambino! Aaaaaaah Non mi piace di più. Ma lo sai quanto vuoi il pulcino? Vado per me un leggendato! Tu non hai un leggendario del palco? Dai, dì, che mi avevo scelto. Posso provare la mia nonocchiettone per l'ingresso? Ok. Non c'è lontano del palco. Sì. Ma super super. Ma che cavolo fai? Non c'ero il轴! Ma è un bernardo! Ma come io non fai fare la gira, c'è male. Raga, vera ma sorella! contesto stavo veniva con tre. E poi vieni, che vieni poveri e scusa di se allora. Pararono. Grazie. Non piace che sia più stupida. Il scavalcare te lo do a volare, no? Allora, la mamma è dove tu fare un'ocupa delle stupite. Però me lo do. Aspetta. Nooo! Che è che non è in tre? È che da tre ore fatti. E in un craino io non capisco l'entere. Non è normale. ma e e e Per me, per me, per me, per me. Domani ti do gioco. Ti do una bici. Ti do una bici. E che cosa? Sì, eh sì, vabbè, cacchino, vabbè, cacchino, vabbè, cacchino, il cane, il cane, il cane, il vero, gli devo dare, ecco, che ricordi, adesso? Non so che mi stava lì, che mi sta spavendo, dovrei, ho voglio bene, dovrei, ho voglio tanto bene, è che, è che, è, tu calcate, è, tu calcate, grazie, un sasso una roccia la roccia non mi piace no, non si è un piano ancora un no ancora un no solo che è in inglese a spaceway le orecchie stanno morendo ma è il tamburo di voi c'è acqua lontano e da qualcuno è basso, lontano scrivo, you are off e che ti chiede da me è venuta allontare off ma un attimo basta suonare quindi scrive basta suonare per piacere per piacere per piacere per piacere per piacere la tromba la tromba la tromba la tromba facciamo tolto la tromba mi metto pure io con la tromba eccola tromba la tromba la tromba la tromba la tromba la tromba basta suonare basta suonare mi metto guicate suonare basta suonare vasta suonare buckn guicate suonare quicate suonare mi metto suonare 赫 ahahahah guardate qui che non me lo curano ok lo pensi Giulia22 Gugugaga Giulia Gugugaga mi ha fatto un attimo un trade quindi è rietro Giulia22 Gugugaga 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 Ehi, ma questa è lei! Giugia, 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 giugia Un attimo, Laura, subito entro Stiamo finandati Lasciamo a cercare Ora stiamo entrando, questa è la mia pagina dei blocchi Ma ancora non è? Sto facendo Entriamo nella Entriamo Ma non si è andato solo, questo è venuto da mille anni Entriamo Entriamo Dalla mia Dalla mia Mi hai giocato l'occhio Scusa Quasi mi hai giocato l'occhio No Guardiam Cosa Ho Voi ا Asta comunque avrà davvero più 9 miei 10 10 dai Che c'è quel video 10 Eh non ci sento troppo male Ma cosa hai detto? Allora da maschimilata Devo ancora fare la.. la.. la 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 lala La lala la pupettina La lala la pupettina La 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 pupettina Allora, non stavo un bel sfida, non lo so io con lo so io Trappi Trappi un figlio nel mio fondo al mio E' in testa 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 Grazie a tutti! 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 Tu sei ricco e io sono povera! E vedo proprio l'unicone! All'unicone! Grazie a tutti! Grazie a tutti!